2 minuti 2, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini in saluto a tutti gli ascoltatori. In vena campagna elettorale la maggioranza del sindaco Lucio Greco ci ha regalato una maximità interna che ha coinvolto un movimento e due partiti. Il movimento è una buona idea, il suo leader è il vice sindaco Tadenziano Di Stefano. I partiti sono Forza Italia e Nuova DC. Tutti in campagna elettorale col centro-destra e con i loro candidati locali e non. Ebbene, dalla vita scoppiata in aula consigliare per i ritardi sull'Atari e la sua agevolazione e il caos in via Venezia, apprendiamo che ci sono assessori che non sanno gestire l'ordinario cosicché non si rispettano gli impegni presi con i cittadini. E poiché ci sono anche molte gelosie e invidie determinate dalla campagna elettorale, ecco che il cocktail micidiale esplode. Ed ancora ci sono movimenti falsamente civici e c'è chi trama per ottenere la leadership dentro la giunta. Insomma, se ne sono dette così tante che a questo punto ci chiediamo perché stanno insieme, chi li obbliga a stare insieme. Ora c'è la campagna elettorale, è tutto in stand-by, ma dopo che la campagna elettorale sarà finita, la situazione migliorerà. Certo, il sindaco non ha interessi a favorire divorzi all'interno della sua maggioranza, servono i numeri in consiglio comunale per governare, ma diciamo che almeno che mandi i suoi a lezioni di civile convivenza, che imparino a stare separati in casa senza litigare, ma con l'intento di essere produttivi. Questa può essere una formula per completare questa sindacatura in santa pace, senza balli, balletti, ripicche e gelosia. Al prossimo appuntamento. Due minuti due, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.